Buongiorno, ben trovati alla conferenza stampa per partita di Roma Salernitana, iniziamo con l'angelo mangiante. Finalmente si riparte per il campionato, voglio sapere intanto come arriva la Roma a questa sfida di domani con la Salernitana e quali sono le ambizioni della squadra anche se il mercato ancora non è finito e magari se si aspettava di arrivare all'inizio del campionato ancora senza quei riforzi in attacco che si aspettavano dopo l'infortunio di Ebram, considerando che ha un solo centravanti per domani che è Belotti. Abbiamo lavorato bene, io direi molto bene, arriviamo praticamente con 40 giorni di lavoro, dove praticamente tutti i giocatori hanno fatto il 100% del lavoro o molto vicino, pochissimi problemi, neanche di quei piccoli problemi che di solito tu hai in prestagione. arriviamo domani senza nessuno giocatore fuori per l'infortunio, abbiamo due giocatori importanti fuori per la squalifica, però arriviamo bene. Io approfitto anche l'opportunità per ringraziare tutti i staff e tutti i giocatori perché abbiamo lavorato molto molto bene durante questo periodo. Abbiamo migliorato diversi aspetti del nostro gioco, ovviamente questi due ragazzi che sono arrivati questa settimana, aiutare sì, perché sono giocatori di qualità, per essere preparati per giocare con noi, per giocare da squadra, conoscendo i nostri principi, le nostre dinamiche, no. La situazione dell'attaccante è una cosa che tutti noi sappiamo, per me venire qua a piangere o venire qua con tante parole non merita la pena, non è che non lo sappiamo, sappiamo tutti che dal momento che abbiamo perso Tami, se non sbaglio, 4-5 di giugno da tanto tempo, non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione, è una cosa che tutti noi sappiamo e ovviamente che direttore e società fanno il possibile per soluzionare questa situazione. Io alleno i giocatori che sono a disposizione e chiedo una volta in più ai nostri tifosi che giocano magari domani da attaccanti, abbiamo bisogno di loro, abbiamo questo problema, abbiamo il problema dei due giocatori che sono fondamentali per noi, che non possono giocare domani, che possiamo fare quello che noi abbiamo fatto e molto bene questa settimana che è stato lavorare per arrivare bene alla partita, i tifosi che possono perfettamente aiutare, è fantastico una volta in più, stadio pieno, metà agosto con un caldo assolutamente incredibile, chiedo anche a quelli che sono un po' arrabbiati perché non ci sono bandiere dietro la porta, chi dicono che arrivano con dieci minuti di ritardo, io dico dai ragazzi andiamo perché la partita inizia nel primo minuto, con bandiere e senza bandiere, abbiamo bisogno di tutti. Mi fido dei ragazzi, penso che con tutte queste difficoltà domani saremo. Grazie, mi raccomando con i colleghi per favore una domanda a ciascuno perché altrimenti andiamo troppo lunghi e siamo costretti a tagliare prima. Viano Serafini a SROMA.com Domani, prima partita ufficiale, arriva la Selenitana, l'anno scorso ha giocato un buon campionato, ha raggiunto l'obiettivo Salvezza, è una squadra che si conosce bene, le chiedo che partita si aspetta. Guarda, penso che è una squadra con potenziale per arrivare in Europa, ottimo allenatore, rosa di grande esperienza, l'anno scorso tanti 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 risultati positivi, non hanno vinto tanti però hanno perso pochissime. Mi aspetto una partita difficile, però qual è la partita nella Serie A che posso arrivare qua e dire che mi aspetto facile? Nessuno, sicuramente che arriverò qua nella ultima partita e mai posso dire una partita di Serie A che mi aspetto qualcosa facile. Ripetere chi manca Lorenzo, chi manca Paolo e ripetere, ripetere, ripetere qualcosa che noi sappiamo. Il mondo del calcio qualche volta mi stupisce perché siamo ancora in tante cose tanti anni indietro. perché iniziare una competizione dove l'obiettivo ovviamente è prendere la competizione il più alto possibile con un livello di qualità altissimo. giocatori squalificati per l'accumulazione di cartellini gialli della stagione scorsa mi sembra una cosa completamente demodè. Si è una sanzione per espulsione ovviamente sì, però passare di una stagione all'altra, cinque gialli, una partita di squalifico per una nuova stagione dove ovviamente l'obiettivo è alzare al massimo il livello di qualità, di aspettativa, di interesse. Lasciare i giocatori fuori, penso che sono 10, 11, 12 giocatori che rimangono fuori dalla prima gara. mi sembra un po' demodè, però è così. Andrea Pugliese Salve mister, io prima parlava dei centrocampizi, ecco le volevo chiedere che cosa possono dare Renato Sanchez e Paredes e se è uscito Matic e è entrato Paredes, come cambia la Roma e se ci dice la sua su Matic, sull'addio di Matic. No, del signore Matic penso che è lui che deve dire qualcosa, se vuole dire qualcosa. Io dopo sentire le parole del direttore sportivo del REN, se non sbaglio, M. Moris, penso che non abbiamo bisogno niente più. Lui ha detto che parlava con Emane, negoziava con Emane da più di un mese, che ti posso aggiungere più, non c'è niente da dire. Sono contento con Paredes, per non dire molto contento. È un giocatore che mi piace da tanto, che la stagione scorsa non ha avuto una stagione positiva. L'unica cosa positiva è il campione del mondo, che è ovviamente il massimo che un giocatore può raggiungere. Ma come giocatore della Juve non è stata una grande stagione per lui. Pre-stagione inesistente, lavorando con un piccolo gruppo a Parigi, senza lavoro di gruppo, senza lavoro di palla, senza partite di preparazione. Però è arrivato in una condizione molto positiva, principalmente mentale. Vuole aiutare, partirà di panchina, però sono convinto che è uno che ci può dare una mano domani, non tanti minuti, però con la sua esperienza, con la sua qualità, con il suo modo di pensare calcio, che è un modo che mi piace tanto a me in quella posizione lì, ci può aiutare. Roberto Maida. Questa è la quarta. Buonasera. Ben trovato. Grazie. Abbiamo scritto fiumi di inchiostro sui vostri rapporti interni, sul progetto che ha la Roma con lei, possibile rinnovo del contratto, su un incontro estivo con il Presidente in Portogallo. Vi siete parlati, avete pianificato qualcosa? Lei si è sentito rassicurato da questo confronto? Avrà quello che desidera? Perché noi l'abbiamo lasciato a Siviglia, che diceva merito di più, la squadra merita di più. Ha avuto quello che pensa di meritare? Speriamo il fine di mercato per poter valutare di modo globale quello che è stato il mercato. è difficile di valutare adesso questa globalità, però tante cose che si hanno fatto e che si hanno fatto bene. io direbbe anche molto bene. Fare quelle 30 milioni più o meno di un modo molto molto veloce, sotto grande pressione, penso che il direttore e la società hanno fatto molto bene. non mi metto di parte perché ho dato un contributo importante a tutti i giocatori che avevano un valore vicino a zero. Un anno, un anno e mezzo dopo, due anni dopo, sono stati praticamente i giocatori che hanno aiutato il club a salvare una situazione limite, però grande lavoro fatto da parte dei direttori della società. con le limitazioni che noi abbiamo come club dal punto di vista economico, legale, si è fatto un ottimo lavoro. Io direbbe molto molto difficile fare meglio con tutte le difficoltà. però nell'analisi vostra, che qualche volta è molto critica, altre volte è ultra positiva, io direbbe che un po' di equilibrio in questa analisi arriva bene. Per esempio, Paredes, Renato e Aouar sono tre giocatori che mi piacciono tutti loro. però quante partite ha giocato Aouar l'anno scorso? Un anno che praticamente non ha giocato perché era in scadenza, era con un problema con il club, è un giocatore che viene di una stagione difficile. Leandro, la sua situazione nella Juve anche, non una stagione top, senza ritiro, senza prestagione. Renato, l'ultima stagione, un'accumulazione di infortuni che non gli ha permesso di giocare con regolarità. Sono giocatori che piacciono, però sono giocatori che devono essere lavorati. Devono essere lavorati, devono essere preparati, devono essere tutelati. e non facciamo paragone con altri club che hanno fatto investimenti enormi. E' anche loro giocatore molto bravo, giocatore in una situazione diversa. L'Orente indica che sono contento, l'anno scorso abbiamo capito che era un giocatore che poteva essere a livello Romi e poter aiutare. L'Orente indica che bisogna imparare con noi a giocare con noi, perché non sa giocare con noi ancora. Però una volta in più la società ha fatto bene. Però mi fa anche un po' male al cuore leggere certe analisi su Ibanez. È troppo facile parlare di Ibanez e dire che Ibanez ha sbagliato un paio di partite importanti, tipo di partite che la gente non dimentica. Però sarebbe molto più onesto dire che Ibanez è stato un giocatore fantastico per noi. Il più veloce dei nostri difensori, il più pericoloso di pallina attiva, il più affidabile nella nostra pressione alta per la sua agilità, per la sua recuperazione. Qualche volta quando leggo sembra che i giocatori che sono andati non erano giocatori importanti per noi. Però di nuovo, al di là dell'attaccante, la società, i direttori Tiago hanno fatto un bellissimo lavoro. Ovviamente che per me non è facile. Dire che sono super contento non posso dire, perché per me il campionato inizia domani, non inizia il 31 di agosto o il 29 di agosto. Ovviamente è difficile, però io rispetto, io sono tranquillo, non sto arrabbiato, non litigo con nessuno, cerco di essere sempre positivo qua dentro. E sono positivo anche perché i giocatori hanno bisogno della mia positività. E niente, sono convinto che i direttori e società vogliono esattamente lo stesso che voglio io. Già l'ho detto prima, gli ripeto, non è che siamo in due lati opposti del fiume. Siamo insieme, però la verità è che l'allenatore sono io. Scusa Luca, sui Fritkin c'è stato questo confronto progettuale, diciamo. Io penso che il signor Fritkin non sarebbe molto contento se io adesso parlo del mio rapporto con lui. Quante volte mi ha chiamato, quante volte l'ho trovato, è andato in Portogallo sì o no. Ci siamo trovati a Lisboa o a casa mia, a Setuval, io penso che io, essendo una persona ultra privata, che non gli piace le luci, io sono suo, come si dice, empleato, employee, no? Ah, dipendente. Ah, dipendente, come vado adesso a commentare il rapporto che ho con il proprietario. Grazie. Iuric, Repubblica, mi raccomando una domanda a ciascuno. Sono tre, no? Quattro. Salve mister. Salve. Lei ha fatto molti elogi alla direzione sportiva e agli acquisti a parametro zero della Roma, però se io guardo i conti che sono usciti, che immagino che siano abbastanza simili alla verità, la Roma ha incassato con Zaniolo, la Roma, ha detto lei, no? In difficoltà, ha incassato 30 milioni al 30 di giugno, poi ha venduto i Bagnaz, poi ci sono state, incasserà nuovamente da Zaniolo, ha incassato da Under. Insomma, la Roma, anche nelle difficoltà, i soldi li ha presi. Le chiedo, le è stato spiegato per quale motivo ancora non si è investito per comprare un calciatore o magari le è stato detto che verrà fatto un investimento da qui alla fine del mercato? Grazie. Guarda, ci sono numeri che ti dico io veramente che non ho ancora capito molto molto bene. Io penso che questa situazione del Financial Fair Play, l'accordo che la Roma ha firmato con la UEFA, ci sono dei punti che non ho capito ancora molto molto bene, principalmente quando si paragona con altri club, anche loro con delle situazioni da risolvere con il Financial Fair Play, per non parlare di squadre che sembrano che giocano in un universo completamente diverso del nostro. Però questo è una cosa più dal punto di vista legale che io come allenatore non è compito mio cercare di capire tutto o di fare commentare su questo qua. E niente, come dicevo io prima, io lavoro con i giocatori che ho a disposizione. mi devo fidare della parola del direttore della parola della società che non finiremo il mercato senza soluzionare questa situazione. Come dicevo io prima, ovviamente per me il campionato inizia domani. Gli ho dato un'intervista qualche settimana fa dove un po' a scherzare. Io dicevo, se arriva Mbappé il 31 di agosto, arriva in ritardo. Quando dico Mbappé, ovviamente che scherzo. Io ovviamente che sto parlando, chissà, del miglior attaccante del mondo in questo momento. Però siamo in ritardo. Però è una cosa che noi internamente sappiamo. Io lo so, i giocatori lo sanno, il direttore lo sa, la proprietà lo sa. Se non hanno soluzionato questa situazione è perché non hanno potuto. lo stesso successo che hanno avuto con altri giocatori in altre posizioni. Io devo aspettare, però più di aspettare devo giocare domani. Io devo giocare domani. Devo giocare dentro della mia stanza, fidandomi che la gente che sta in panchina, che sta nello spogliatoio, sono preparati benissimo per fare il loro lavoro. È qualcosa che facciamo dall'inizio della prestagione. Qualche partita non sono andato in panchina, qualche partita non sono andato in spogliatoio, qualche partita sono stati in panchina però senza parlare. Abbiamo preparato la gente il meglio possibile. I giocatori hanno allenato molto, molto bene. Molto, molto bene. E dai, io mi devo concentrare domani. dopo vediamo se la prossima settimana succede qualcosa. Se non succede andiamo a Verona con la stessa mentalità. Siamo un gruppo unito, siamo un gruppo consapevole del nostro potenziale, dei nostri problemi. Andiamo là, andiamo là domani. Piacentini, Corriere della Sera. Questa è la terza ultima. Questa è più due. A me interessa molto il cambiamento tattico. Comunque, come ha ricominciato la Roma con tre giocatori a centrocampo rispetto all'anno scorso, quindi con anche due attaccanti più di ruolo. È un modulo che può dare cosa? Più stabilità al centrocampo, più possibilità in avanti ai due attaccanti. L'anno scorso sono mancati i gol degli attaccanti alla Roma, a parte di Bala. E volevo sapere, nel posizionamento dei tre, se Pellegrini, che domani non ci sarà, ma comunque se in generale può giocare insieme ad Awar in un centrocampo a tre. Può giocare. Tutto dipende dal momento, tutto dipende di come stanno loro, tutto dipende dell'avversario. Però al di là dei giocatori nuovi che sono arrivati, gli altri giocatori hanno già un lavoro con noi che permette di pensare a giochi diversi di un modo diverso. In centrocampo abbiamo tanta gente che è multifunzionale. Non abbiamo un unico giocatore che direbbe questa è la sua posizione, questo è il suo modulo e solo può giocare qua e di qua non possiamo uscire. Brian da sei, da otto, senza problema. Awar, Lorenzo da otto, da dieci. Renato, sì, Renato è più otto e un vero otto. Paredes, sei, doppio pivot. Bove, otto, doppio pivot. Tutti questi giocatori sono giocatori che ci danno questa possibilità. Daniele Lomonaco, romanista. Due. Tanto ben trovato perché è sempre un piacere, pensavo di rivederti a settembre invece. Grazie. A proposito di questo, tra le varie cose della passata stagione, mi è sembrato che a un certo punto sia a livello UEFA, soprattutto per quello che è accaduto in finale, sia in Italia ci sia stato quasi un problema politico con i confronti di Murigno, allenatore, da parte delle istituzioni arbitrali, intendo dire. Io non so se è un'impressione mia sbagliata. Non mi sembrava che fosse solo un rapporto di campo. Mi è sembrato che poi a un certo punto, soprattutto sulle decisioni che sono state prese, sia intervenuto quasi un concetto più politico che non di campo. Però, ripeto, è una mia impressione. Io voglio sapere se quest'estate è stata fatta qualche valutazione da parte tua in questo senso, se pensi che ci possa essere un problema per te e per la Roma, nel corso della stagione, su questo argomento. Grazie. Una cosa è la Roma, un'altra cosa sono io. Per me la cosa è molto semplice. Se è politico o no, non voglio entrare. Se è istituzionale o no, non voglio entrare. A me solo mi interessa una cosa, che è campo. Campo, partita, arbitri, quarto arbitri, rettangolo di gioco, i panchine. L'unica cosa che mi interessa a me è uguale per tutti. L'onestà è così. A me non piace Mourinho. Non mi interessa. Nella partita io, arbitro, io, quarto arbitro, guardo Mourinho, guardo Paolo Sosa, guardo Roma, guardo Salernitana. Tutti uguali. Io faccio una piccola sfida a voi domani. Guarda la mia panchina, guarda la panchina della Salernitana. Dopo alla fine facciamo i complimenti agli arbitri, perché ha guardato le due panchine dello stesso modo. È l'unica cosa che mi interessa a me. Niente di più. Non voglio uscire di qua. Non voglio dire che è politico, non voglio dire che non è politico. Niente. E non sono neanche troppo preoccupato con questa situazione. È gioco, arbitro. Arbitro, gioco, quarto arbitro, terreno di gioco, giocatori della Roma, sono uguali agli altri. Il panchino della Roma è uguale agli altri. Stesso comportamento, si permette a uno, non si permette all'altro. Siamo tutti uguali. E questa è l'unica cosa che voglio io. E se siamo così avremo la stagione perfetta. Chiudiamo con Pes del Tempo. Buonasera. Prima si è parlato di Matic, chiaramente rappresenta il passato. Però da una vicenda come questa, le è piaciuta la risposta del gruppo? E se un episodio come questo, visto che insomma Matic era un calciatore di esperienza ben inserito, ha rafforzato anche l'unità della squadra. E rispetto anche a questo ha parlato tatticamente e tecnicamente dei nuovi acquisti. Le volevo chiedere come si sono inseriti a livello di gruppo invece nella squadra. La uscita del signor Matic era una cosa che non si aspettava. Però la Roma ha avuto una risposta immediata e una risposta fantastica. Nella maniera matita ha giocato per noi, se non sbaglio, tipo 50 partite l'anno scorso. 75% delle partite che abbiamo fatto. Grandissimo giocatore. Era un giocatore molto molto importante per noi. Lo abbiamo perso. Però viene Paredes e viene Renato. Non viene Pepino e Tonino. E questo per noi non è un problema. Il problema è se uno va via e dopo non arriva un altro. Sono arrivati due giocatori che, ripeto, non stanno preparati al suo massimo livello. Però stiamo parlando di due giocatori che, se noi siamo felici con loro, nel modo di recuperarli fisicamente, mentalmente e averli a un livello alto, sono due giocatori di grande qualità. E qui non è che perdiamo qualcosa. Il gruppo è sempre stato un gruppo fantastico. La gente che va via, va via piangendo. Il contatto tra la squadra e io stesso con Sergio Oliveira, con Veretout, con Diavara, con Félix, con Vopato, con Tarovic. non dico che è un contatto di ogni giorno, però siamo ancora famiglia. È andato via uno, sono entrati altri e la famiglia continua lì. e andiamo avanti. Benvenuti quelli che sono arrivati e che possano capire velocemente la nostra dinamica di gruppo. e andiamo insieme. Domani inizio. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.